L'Inter ha un problema in panchina, non sto parlando di Antonio Conte, o meglio, per me il problema non è quello, ce ne sono anche altri. Sto parlando del fatto che la panchina oggettivamente sta portando meno di quanto ci si aspetta da una panchina di una squadra come l'Inter. Soprattutto considerando che a inizio stagione c'era anche la polemica sul fatto che le cinque sostituzioni favorissero le grandi squadre, ovviamente se ne è parlato solo dopo una vittoria dell'Inter, mentre poi quando sono arrivati tutti i problemi tra casi Covid, infortuni, eccetera, non se ne è parlato più, ma va bene, ci siamo abituati. Tra poco vi faccio vedere qualche dato, perché il problema lo vediamo nei numeri, ne parliamo insieme e ci riflettiamo insieme su questo. Prima però voglio ringraziare Riccardo Lopez, che è il nostro sostenitore, che grazie al suo abbonamento ha permesso quindi la creazione e la realizzazione di questa clip. Il sostegno di Riccardo è importantissimo per noi per contribuire sempre di più alla crescita del nostro progetto. Chi vuole sostenere Passione Inter e chi vuole sostenerci in questo progetto può farlo andando su patreon.com slash passione inter, trovate il link in descrizione oppure potete fare come ha fatto appunto il nostro Riccardo, abbonandovi molto semplicemente con pochi click al nostro canale YouTube, il vostro sostegno per noi è davvero molto importante. Detto questo, problemi in panchina per l'Inter, la domanda che faccio a tutti voi, in particolare la faccio a chi ora ci segue in live, così poi posso mettere i vostri commenti in evidenza, ma vale anche per chi ci segue in differita, poi risponderò ai vostri commenti qui sotto. La panchina dell'Inter è stata sopravvalutata? Questa è la prima domanda che vi faccio. La seconda domanda che vi faccio è, le riserve dell'Inter sono all'altezza degli obiettivi che ci siamo prefissati o che secondo noi comunque l'Inter dovrebbe raggiungere a fine stagione? Fatemelo sapere. Io intanto vi do la mia ala, perché la domanda ovviamente sorge spontanea, diciamo dopo che contro la Roma le sostituzioni sono state decisive, però in negativo. La colpa, almeno secondo me, nel caso di Roma dell'Olimpico, ma anche per esempio nelle sfide contro Napoli e Spezia, non è tanto dei singoli giocatori che sono entrati in campo, quanto delle scelte che sono state fatte dall'allenatore, al quale ho dato infatti un voto basso. Questo non significa che io sono per il Conte Out, io sono per l'essere compatti e sostenere anche l'allenatore, però faccio una critica oggettiva nel merito di questa prestazione. Conte ha sbagliato, così come contro Napoli e Spezia, chiudendosi troppo, aveva concesso troppo agli avversari, contro Napoli e Spezia è andata alla fine bene perché ha portato a casa il risultato, contro la Roma non è andata così bene. Comunque, la Gazzetta dello Sport ci ha proposto una tabella con alcuni dati significativi, partendo dal presupposto che di base Conte si schiera così, ve lo vado a mostrare, eccoci qua. L'ho messa col 3-4-1-2 per comodità, perché questo software non ci consentiva di schierare un 3-5-2 molto contiano, comunque di base i titolari dell'Inter, titolarissimi dell'Inter, sono Andanovic, Skinner, Defraie e Bastoni in difesa, Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal con Ashley Young sulla sinistra, Lukaku e Lautaro Martinez. Questa è la formazione di base, nelle idee di Conte, l'assetto base titolare, schierato ovviamente col 3-5-2 più puro. Detto questo, nell'analisi che arriva proposta dalla Gazzetta dello Sport, vediamo, ve la vado anzi a condividere ovviamente, analisi che arriva dalla Gazzetta dello Sport, dal quotidiano, eccola qua, i cambi di Antonio, ci scrive la Gazzetta. Che cosa ci mostra? Innanzitutto vediamo i calciatori che sono considerati, diciamo, panchinari, per quanto riguarda l'Inter, di Conte, manca D'Ambrosio, tra questi nomi che ha giocato 699 minuti, divisi in 16 partite totali, con 3 gol in campionato. Tra questi c'è chi ha avuto un rendimento più o meno altalennante, chi più, chi meno, ovviamente, da Pina Monti fino ad arrivare ad Ivan Perisic. Come vedete, queste sono le varie statistiche che poi vi mostro. Al di là di questo, anzi, ve li leggo prima tutti, ci sono, come detto, Ivan Perisic con 22 presenze e 2 gol, 1058 minuti giocati, l'unico calciatore di questi sopra ai 1000 minuti. Roberto Cagliardini con 2 gol, Alexis Sanchez con 2 gol, Matteo D'Armian 1, poi Christian Eriksen 395 minuti, Stefano Sensi 272 minuti divisi in 9 partite, Alexander Kolarov 8 presenze, 477 minuti, Andrea Ranocchia 3 presenze, Andrea Pina Monti 3 presenze. Poi il dato a fianco è quello delle partite da subentrato, come vedete Perisic è subentrato 11 volte, Gagliardini 5, Alexis Sanchez 5, Eriksen 8 su 13 e Stefano Sensi è subentrato 8 volte su 9 totali. Quindi questo è per spiegarvi un po' questi dati di questa schermata. Al di là di questo, il dato che però preoccupa o comunque fa riflettere è che l'Inter in questa stagione da calciatori entrati dalla panchina ha avuto solo 4 gol, meno di tutte le altre big come Atalanta, Juve, Napoli-Mina nel Lazio. Quindi i subentrati di queste grandi squadre hanno segnato di più rispetto ai subentrati dell'Inter. Se sommiamo gol e assist, sono 10 giocate decisive in totale. 8 di queste giocate arrivano da calciatori solitamente titolari che per motivi di turnover però partivano dalla panchina, quindi diciamo che l'apporto dei panchinari veri e propri scende a 2 gol praticamente. Non è un caso quindi che si sia arrivati ad un punto in cui la formazione che vi ho fatto vedere prima è diventata ormai lo standard, una fila strocca. 9 giocatori su 11 sono una fila strocca. Qualcosa può variare tra l'esterno-sinistro, Ashley Young che è spesso in ballottaggio, che è spesso cambiato l'esterno-sinistro e ovviamente anche con la mezzala sinistra in cui si alternano più giocatori, però più o meno si sta delineando anche lì. Per il resto giocano sempre gli stessi, è il virgolettato, la frase che ha detto anche il mister. Il più utilizzato delle seconde linee, come abbiamo visto anche dalla grafica, è Ivan Perisic, il croato, che però tra l'altro è stato anche uno dei più deludenti secondo me fin qui in tutte le posizioni in cui ha giocato. Paradossalmente, come ho detto spesso, ha giocato meglio giocando quasi da terzino, bloccato dietro che in proiezione offensiva. Sensi è quello che entrando ha inciso di più degli altri, però è stato poi riparcheggiato di nuovo in panchina in queste ultime due partite contro Sampe e Roma, immagino per precauzione viste le condizioni fisiche. Dove voglio arrivare quindi con questo discorso? Innanzitutto che è fuori da ogni dubbio che per Ambira lottare per certi traguardi, lato suo Conte deve necessariamente migliorare nella gestione della panchina, nella gestione delle rotazioni degli uomini, nella gestione anche interna alla partita, perché trincerarsi dietro quando sei in vantaggio due volte ha portato frutti contro Napoli e Spezia, come dicevamo, altre volte come contro la Roma appunto non ha portato i frutti sperati, anzi hai regalato due punti importanti. Dall'altra però vale anche detto che anche gli stessi panchinari devono necessariamente salire di livello, livello di prestazioni, soprattutto quando sono chiamati ad entrare a gara in corso, non quando fanno turnover e partono a titolari, perché altrimenti quel discorso che abbiamo fatto sui cinque cambi, che magari l'Inter ha una rosa un po' più profonda di altre squadre più piccole e può essere favorita da questo discorso, viene totalmente a mancare. Adesso inoltre arriva anche un banco di prova decisivo, per me in questo senso, mercoledì alle 15 si gioca in Coppa Italia contro la Fiorentina, come detto questa Fiorentina è tra l'altro per me la gara assolutamente da non sbagliare, perché è da dentro fuori, dovessi sbagliare una delle prossime partite senza far nomi, comunque c'è tempo ancora per rimediare, se sbagli la Coppa Italia agli ottavi sei fuori e non so se possiamo permettercelo secondo me di uscire agli ottavi di una Coppa che devi puntare a vincere, quindi solitamente in Coppa Italia si fa turnover, però adesso sarà fatto sì o no contro questa Fiorentina? Se non lo fai allora mi viene il dubbio che non vengono reputate le riserve all'altezza dei titolari, soprattutto non vengono reputate queste riserve neanche all'altezza di un ottavo di finale di Coppa Italia, questo è un po' un problemino, diciamo. Se dall'altra parte invece fai il turnover e poi non dovessi vincere, può essere una conferma del fatto che le riserve non sono all'altezza, questa è la domanda che vi faccio, questo è il ragionamento che volevo fare con voi, vediamo anche un po' i vostri commenti, vediamo, vediamo. Rodi Gian dice Io trovo davvero disdicevole che la panchina non venga sfruttata a dovere, Pinamonti, Ericsson e Ranocchia ognuno a suo modo possono dare un bel contributo, minimizzare infortuni e dare freschezza, poi vediamo, Ben Sambai più netto, la panchina fa schifo, Sensi sempre rotto, Ericsson fuori dal progetto, Perisic non affidabile, Gagliardini non da Inter, D'Ambrosio e Vesino, Idem nonostante gol importanti fatti, e ahimè Idem-Ranocchia. Poi Stefano dice, a dire la verità, già cinque minuti prima dei cambi ci eravamo abbassati, comincio a temere che sia un problema di atteggiamento più che di uomini in panca, e questa è anche una considerazione che ci sta, Emanuele dice, Gli unici due meritevoli in panca sono Darmiano, una sorpresa per tutti, dopo essere arrivato tra l'indifferenza generale, pure la mia, e lo sfortunato Danilo, pure artefice di sei dei nostri punti. Se devo dirti la mia, Emanuele, chi ci segue sa che io fin da subito mi sono speso per Darmiano, e quindi io sul fatto che Darmiano abbia sorpreso, mi prendo una grossa rivincita, e chi ci segue dall'inizio della stagione può testimoniare come io mi sia speso pro Darmiano, fin dall'inizio. Luigi dice, Credo che l'unico problema è che ci sono molti calciatori non funzionali al calcio di Conte, Perisic, Collarov, Eriksen, Essenzi solo per gli infortuni ricorrenti. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, scrivetemelo qui sotto nei commenti, cercherò di rispondervi, vi invito ovviamente a iscrivervi al canale YouTube di Passione Inter, a seguirci anche sulle piattaforme di podcasting come Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Ringrazio nuovamente Riccardo Lopez, che con il nostro sostenitore, che ha contribuito quindi grazie al suo abbonamento alla realizzazione di questa clip, chi vuole sostenerci può farlo andando su Patreon.com slash Passione Inter, trovate i link in descrizione, oppure potete abbonarvi al nostro canale YouTube, cliccando sul pulsantino Abbonati, perché il vostro sostegno per Passione Inter e per noi è davvero molto molto importante.